Si è conclusa da parte della Guardia Costiera l'operazione Mare Sicuro 2017, la campagna che ha come obiettivo tutelare la sicurezza della balneazione ed il rispetto delle norme sul corretto utilizzo delle spiagge e dei relativi specchi d'acqua, con lo scopo di salvaguardare la vita umana in mare e l'ambiente marino e costiero. L'attività svolta su tutto il territorio marchigiano dal 17 giugno al 17 settembre 2017 nella fase operativa ha visto impegnato un cospicuo contingente composto da circa 400 uomini, 39 mezzi terrestri, 25 unità navali di cui 8 costiere e 5 di altura e 12 mezzi minori, nonché, quando necessario, l'utilizzo dei mezzi aerei del terzo nucleo aereo Guardia Costiera di Pescara. Il resoconto dell'attività parla di 12.400 controlli effettuati e 34 unità navali soccorse, con 120 persone soccorse e recuperate, ben 53 sono stati gli interventi di ricerca e soccorso e 219 sono stati i verbali amministrativi elevati, 11 inoltre sono state le comunicazioni di reato inviate all'autorità giudiziaria, di cui 7 per violazioni dell'utilizzo del demanio marittimo. Dall'analisi di questi dati si evince che rispetto alla stagione 2016 si riscontra un aumento del 13% delle violazioni relative al rispetto delle ordinanze balneari, di contro però si è rilevato una riduzione del 15% delle notizie di reato inviate all'autorità giudiziaria ed un decremento del 67% degli illeciti. Ma anche se l'operazione Mare Sicuro è terminata, la Guardia Costiera ricorda che per ogni evenienza si invita a visitare il sito della Guardia Costiera, guardiacostiera.it. Inoltre si ricorda che per le emergenze in mare è a disposizione il numero telefonico gratuito 1530, attivo 24 ore su 24, raggiungibile sia dai telefoni fissi che mobili.